Allora, l'ho sentito, l'ho sentito, l'ha permanente, l'ha paura, l'ho sentito, l'ho sentito, l'ho sentito. La cosa, cambia radio, ne metto una più selezza, la cosa. Un pochino larga, visto il traffico che c'è, la mole di traffico che c'è, forse non ricevo meglio con una radio commerciale, sempre antica, ma perlomeno non proprio vintese. Come questa, ok. Allora, Renato, col tuo permesso, mi faccio entrare. Dunque, quando hai abbassato la potenza, non hai regali per i motivi ovvi del QRN, se no, sicuramente... Un pochino larga, non hai regali per i motivi ovvi del QRN. Un pochino larga, non hai regali per i motivi ovvi del QRN. Un pochino larga, non hai regali per i motivi ovvi del QRN.